ciao ragazzi e ciao ragazze benvenute o ben arrivate sul mio canale per chi non mi conoscesse io sono Cinzia e oggi voglio parlare con voi dell'ultima palette in casa Too Faced la Born This Way la Sunset Strip Pad ma prima di iniziare a parlarvi di questa palette se non siete ancora iscritte al mio canale qui sotto c'è un bottoncino rosso mi raccomando cliccateci sopra a voi non costa nulla per me è molto importante e attivando la campanellina entrete a far parte della Makeup Love Community ora però vando alle ciance iniziamo subito a guardare questa nuova palettina qui allora ragazze cosa dire di questa palettina io non sono come sapete chi mi conosce da un po non sono una gran fan di Too Faced però l'unica palette ma l'unica palette che veramente mi piace tantissimo è la Born This Way la prima che ha fatto Too Faced questa è la mia palette preferita in assoluto di Too Faced dei toni nude perché comunque ha dentro toni nude rosati sono colori che comunque io vado a utilizzare è questa palette qui e devo dire che mi piace veramente tantissimo ora però guardiamo lei guardiamola subito insieme e questa è la palette di Too Faced allora quando l'ho vista ho detto niente di che niente di che ha un profumo veramente molto molto buono ma avevo la mia paura era quella che era molto simile alla prima ora ve le metto a confronto innanzitutto perché bisogna anche confrontarle come palette quindi andiamo così allora questa in alto questa qui in alto è quella nuova e questa è quella vecchia diciamo che come colorazioni non ce n'è uno uguale all'altra possono sembrare simili in realtà non c'è un colore uguale sembrano simili perché perché comunque stanno su tutti sui toni del nude tutti sui toni del marroncino del rosato ma in realtà questa è un leggermente più la prima l'ultima che ha fatto Too Faced è leggermente più calda di questa questa toni più marroncini più tenui più rosati mentre questa è più sul nude neutro caldo nude neutro caldo nude neutro caldo quindi ne abbiamo un po' per tutte le salse si possono anche miscelare insieme adoro anche questo marrone scuro mi piace tantissimo non c'è il solito nero ma un marrone ragazzi questa palette è veramente profumatissima non so se perché no non so se perché gli hanno spruzzato sopra il profumo ma madonna anche troppo perché quando mi è arrivata c'era un profumo dentro il sacchetto che cacchio probabilmente gli hanno spruzzato sul profumo e ha trapassato e la palette ha un odore pazzesco e dicevo questo marrone qui è molto molto intenso molto scuro però vando alle ciance ora la mettiamo subito all'opera e vi posso dire la mia le mie considerazioni per quanto riguarda questa palette ragazzi innanzitutto voglio testare il marrone scuro questo qua voglio fare un un make up con l'angolo esterno più scuro e appunto vado a prendere questo colore qui che si chiama black sand che in realtà non è nero ma è marrone e voglio portarlo vedete che è marrone voglio portarlo appunto all'angolo esterno quindi partiamo con l'angolo esterno e devo dire ragazze che è molto molto pigmentata ed è una cosa molto molto very good molto molto buona quindi lo portiamo bene bene all'angolo esterno io lo capisco subito se i colori sono molto pigmentati perché se sono molto pigmentati mi vanno a coprire le liner mentre quando non sono pigmentati le liner rimane proprio in trasparenza mentre questo essendo un colore tanto scuro mi lascia le liner cioè mi copre le liner visto che è tatuato ok dopo andremo a sfumare tutto insieme ora vado a prendere vediamo perché dopo facciamo la crise vado a prendere questo colore qui che si chiama surf broad questo colore qui io lo porto lo porto su tutta la palpebra mobile col dito questo è lo shimmer dopo andremo a fare tutto una sfumatura è un po' trasparentino molto molto bello però ora vado a prendere un pennello da sfumatura un po' stretto cioè questo qua e prendo un marrone chiaro prendo nude beach che è questo colore qui e lo porto nella piega e lo vado a sfumare con il marrone scuro ok adoro io questa palette già adesso facciamoci molto molto bella devo dire ma voi intanto che ci stiamo truccando e stiamo sperimentando questa palette pensate di prenderla vi piace state aspettando la mia recensione cosa state facendo cioè nel senso pensate di acquistarla io devo dire che con la prima mi sono trovata veramente molto molto bene e per quello che ho deciso di provare anche la seconda perché appunto mi sono trovata molto bene con la prima e allora gli ho dato la possibilità se no non non penso che gli avrei dato una possibilità perché appunto conoscendomi non essendo una vera fan di Too Faced scusatemi ragazzi ma ho ancora problemi al braccio e per prendere i pennelli da sfumatura che sono in alto devo andare a utilizzare la mano sinistra ho cambiato pennello prendo il 217 di MAC e vado a sfumare bene i bordi e dicevo che io mi sono trovata bene con la prima e ho deciso di prendere anche la seconda poi vado a correggere la forma del make up con la mia solita tecnica del correttore ora prendo un pennello piatto e vado a prendere Sandy Cheeks questo colore qui e lo porto sotto l'arcata sopraccigliare questo però vediamo che colore è no tende più sul begiolino aspettate un attimo Shell We Dance vediamo no è proprio un top coat niente troppo sono due top coat quindi vado a prendere Height Thid che non è un bianco ma è un è chiaro ma non è un bianco ragazze tra un po' vado a ribattere le sopracciglia le ho fatte un anno fa però hanno sbiadito un bel po' e la ragazza che me la fate mannaggia torna al suo paese quindi adesso che ho passato il colore questo qua vado a prendere Sandy Cheeks e lo porto solo qui per dare un po' di punto luce e quindi vado a ribattermi il tatuaggio prima che la mia amica se ne torna al suo paese peccato ragazze perché è bravissima e niente con un pennello più sottile vado a prendere sempre anzi no cambio vado a prendere questo colore qui Kai Time questo colore qui che è un po' più sul rossastro diciamo e lo porto sotto la rima cigliare inferiore sapete che io sto molto attaccata perché non amo avere troppo larga la sfumatura sotto l'occhio quindi sto abbastanza attaccata e lo porto un po' lì vado dall'altra la base mi piace tantissimo come l'ho ricreata e vi dirò farò un video dedicato ai miei prodotti preferiti del periodo sia per quanto riguarda skin care sia per quanto riguarda il make up perché ci sono dei prodotti ragazzi che mi stanno salvando la pelle e il make up vabbè il make up si sa anche i capelli comunque li ho decolorati veramente parecchio e e quindi dovevano essere tutti rotti a questo punto in realtà vado a prendere shell with dance e lo porto all'angolo interno e vi devo assolutamente dire cosa sto utilizzando per salvare i miei capelli da tutte le regressioni che ho fatto con la decolorazione perché non mi sono mai prima un po' scura un po' un po' scura un po' bionda un po' non riuscivo a capire nemmeno io cosa volevo dalla vita vado a ripassare un attimo con il colore della palpebra mobile che si chiama surfboard surfboard board i nomi certo che ragazze io inglese amici amici e poi ti rubano la bici anche no e ora ragazze a telecamere spinte vado ad applicare vado a sistemare i bordi del mio make up con il correttore vado a mettere il mascara la matita all'interno dell'occhio e vi dico cosa ne penso di questa palettina ragazzi siete pronte a sapere cosa ne penso di questa palette di Too Faced allora si è tutte comode a me piace tantissimo solo che essendo più calda e io amando i toni più freddi mi piace di più la prima però la scrivenza è buonissima il make up mi è piaciuto tantissimo come vi ripeto io amo i toni più rosati più più freddi mentre questa qui è più calda infatti è più calda come palette però ha sempre toni nude quindi le due si compensano tra di loro no toni nude marroni caldi marroni freddi si compensano benissimo le due cose quindi si possono anche miscelare tra di loro vogliamo fare a parte che anche questo marrone è molto scuro è della prima però vogliamo fare un make up freddo però tenere più scuro l'angolo esterno prendiamo quello scuro di qui usiamo un po' di questo si compensano le due palette si possono utilizzare insieme per chi le ha insieme invece per chi non ne ha neanche una di queste due ed è indecisa se prendere o la prima o la seconda allora dall'applicazione sono buone tutte e due sono scriventi uguali mi piacciono tutte e due entrambe se vi piacciono i toni neutro freddi come me vi consiglio sicuramente la prima se vi piacciono i toni nude neutro caldi la seconda ovviamente perché comunque è questa l'unica differenza tra le due più calda più fredda cambia sì questa è leggermente più chiara toni più chiari queste leggermente più scuri quindi poi sta a voi ai make up che volete ricreare voi con le palette ovviamente se le prendete tutte e due tutte e due si compensano queste toni più chiari queste toni più scuri neutro freddi neutro caldi quindi si può giocare ecco però se non amate i neutro caldi questa non credo che faccia per voi mentre con i toni neutro freddi questa è più indicata sicuramente e queste sono le mie considerazioni finali perché in realtà è proprio queste che le contraddistingue tra di loro perché secondo me non c'è null'altro di differenza hanno una bella scrivenza tutte e due performano bene ha fatto leggermente fallout questa e questa è tanto che non la uso non mi ricordo sinceramente perché comunque avendo tante palette provi questa provi quella cantoni quella poi magari un giorno ti viene in mente prendi un'altra e insomma devo fare un po' il giro ecco però comunque sono identiche spiccicate ragazzi per quanto riguarda la performance ragazze io spero che questo video sulla nuova palette di Too Faced la la chiudo la Born This Way Sunset Stripped vi sia piaciuta se vi è piaciuta e vi è piaciuto il mio make up e volete supportarmi lasciatemi un bel like e mi raccomando iscrivetevi e vi aspetto al prossimo video ciao